Nuovo trailer su War Thunder Alpha Strike, prossimo aggiornamento Lo vediamo insieme e cerchiamo di capire quello che verrà aggiunto Leviamo l'audio perché non voglio nessun problema a livello di copyright Anche se War Thunder si comporta sempre bene anche da questo punto di vista Allora, il video dura 1 minuto e 40 Possiamo vedere fin da subito quello che sembra essere una nuova mappa No, ragazzi, mappe notturne è per l'amor del cielo Io non sono un grande fan delle mappe notturne Sicuramente è ben fatta, voglio dire, però da quel che si vede i dettagli, no? Qua abbiamo qualcosa di particolarmente cattivo Jet Antiaerea ZSU qualcosa Questi dovrebbero essere cannoni da 23 Vado sempre a memoria, ragazzi, ve la vediamo molto rapidamente Abbiamo anche radar per agganciamento Ancora jet F20 Tiger Shark Bandiera americana Piccolino Questo è roba americana sempre Un Abrams Torrette Torretta classica Lineamento classico Mitragliatrici Andiamo avanti Ecco Che roba è questa cosa? Io so già che la vorrete vedere nei miei gameplay Perché è piccola Sarà fastidiosa Sarà veloce Sarà armata Con il minimo sindacale che darà fastidio Però è un gommato È giustamente un gommato Sicuramente lo andremo a vedere Ve lo dico già da subito Che andremo a vedere il gameplay di questa unità Andiamo avanti Aspetta un attimo Aspetta, aspetta, aspetta Qualcosa di francese Francese, francese Sì, francese Tutta la vita Vediamo anche di dietro Va bene Ancora una volta Quello che sembrerebbe essere Un Abrams Anche se Devo dire La torretta mi sembra un pochino più alzata Rispetto al solido D'accordo Solitamente è molto più Più compatta Con la struttura stessa Canna Sembrerebbe piccolina Penso che 120 Dovrebbe essere Questo Qualcosa di leggero E di fastidioso Qua possiamo vedere Le granate fumogene Sembra anfibio anche l'unità Con una torretta Forse qualcosa da 30 Un canone da 30 Potrebbe essere Non si capisce molto bene Sì perché c'è la canna principale E poi il canone da 30 Roba cinese forse però Potrebbe essere Qui Una serie di E arriva il ramo Ungherese Ungherese Te li mettono proprio In Diciamo In bella mostra Sulla bandiera Per un primo momento Quando l'ho visto Il Il trailer Ho detto Cavolo Stanno aggiungendo qualcosa All'Italia Poi ho visto bene Perché i colori Comunque sono quelli Ma la bandiera È quella Ungherese Possiamo vedere Comunque Un po' di Anticipazioni Quello che sembra essere Un MIG 21 Eccolo qui Con la classica Ala D'accordo Stretta Fantastica MIG 15 Ancora MIG 21 E poi Tutti gli altri Anche bombardieri E motori Ad elica Abbiamo tutto Andiamo avanti Aspetta che qua Non leggo bene Il 59 Non ho ben capito Questo Comunque Ancora L'abbiamo già visto L'F20 Di prima Abbiamo anche Una visuale Per quanto riguarda Elicotteri Guarda qua L'interno Anche gli elicotteri Hanno qualcosa A questo giro P51 Vabbè Poi Bombardamento Eccolo Eccolo E' lurido Già ve lo No vabbè ragazzi Luridissimo Guardalo Tu ti immagini Un corso così piccolo Liberato Nelle mappe Di War Thunder Che cosa succede Il devasto Te lo dico io Guardalo Guardalo Visuale ancora Del D'elicottero L'F20 Lancio Quello che sembrerebbe Un A10 Che viene distrutto Da Un missile Se ho visto bene E' partito un missile Sì Partito un missile Che l'ha preso in pieno Quindi ci sarà un antiaerea Anche Con agganciamento radar Che lancia missili Questo Ma che cos'è questa roba qua Io qua Leggo roba Francese Ma quello che mi preoccupa Sono questi Così giganteschi Missili Razzi Che vi siete inventati A sto giro Aspetta perché C'è sia Per i tedeschi Sia per quanto riguarda I francesi Quindi Sia Francia Che Germania Ricevono Nuove unità Da questo punto di vista Alcuni dettagli Che magari Ci fanno Vedere MIG 21 Il 15 Ancora una volta Sì Vediamo P51 Classico Sì la torretta Comunque mi sembra Diversa rispetto al solito Bisogna vedere Poi dove lo vanno a mettere E poi Diciamo Il trailer Finisce qua Allora Le cose che mi hanno colpito Così proprio A caldo La mappa notturna Non tanto perché Non sono un amante Della mappa notturna Io la giocavo All'epoca Quando fu rilasciata La prima volta Infatti L'aggiornamento Si chiamava Night Vision Se bene ricordate C'eravate Ma l'unità fra tutte Più fastidiosa Ritengo che sia Sto coso qua Io lo voglio Qualsiasi cosa sia Non ho ben capito Di quale ramo Però lo devo Assolutamente avere Anche comunque sia Per quanto riguarda I jet C'è molta curiosità Anche quest'altra unità Che a me Sembra anfibbia Lato cinese Non vorrei dire Una cavolata Molto interessante E poi vabbè Sicuramente daremo Un'occhiata Al ramo ungherese Che verrà A questo punto Ufficialmente Rilasciato Abbiamo già Qualche unità Sparsa D'accordo Però adesso Si mette Nero Su bianco Poi le altre unità Ragazzi Io ho sempre La paura Che siano Un copia e incolla Di altre nazioni E va a cambiare E va a cambiare Giusto qualcosina D'accordo Qua comunque abbiamo L'interno La visuale Dell'elicottero Non solo i jet Nell'aggiornamento Precedente Che hanno il visore Con tutte le informazioni Del caso L'HMD E poi vabbè Qua tutte Questo Qualcosa Svedese L'ultimo Dovrebbe essere Quello Vediamo Dove verrà Giunto Poi francesi Qua una serie Di attacchi E poi la macchinina Infernale Che darà fastidio L'F20 Sarà molto interessante Mi piace esteticamente E dobbiamo vedere Anche quello Che riuscirà A poi Combinare Io Sono curioso Di vedere Sti cose In azione Lato tedesco E lato francese Perché mi sembrano Abbastanza interessanti Soprattutto magari Per giocare In battaglia Terrestre Realistica Tu sei bello Tranquillo E ti arriva sopra Praticamente L'inferno E poi vabbè Rivediamo Verso la fine Fanno vedere Questo che Sgancia Le contromisure Non si capisce bene Che cavole però Dalla forma Sinceramente Non si capisce Non saprei dirvi Poi il P51 E il trailer Finisce qui Allora ragazzi Ovviamente questo video È giusto per condividere Anche con voi Subito Perché appena Sono tornato a casa Ho visto il trailer Ho detto Devo registrare Il trailer Ho detto Devo registrare subito Un video Così vediamo anche i ragazzi Che cosa ne pensano In generale Delle unità che avete visto Quali sono le sensazioni La mappa notturna L'avreste aggiunta Oppure no Avreste Sareste intervenuti su altro Avreste voluto vedere Qualcos'altro Perché io Attualmente Lato italiano È da un po' Che non vedo Qualcosa di corposo Capito Quindi da un certo punto di vista Sono anche Un po' Non dico pessimista D'accordo Perché il gioco va avanti Però Magari Delle unità Delle cose Che vorrei sistemate Ancora Qui Aumentiamo i contenuti Buono Però C'è sempre Quel però Perché più metti Più le persone Devono stare dietro A sbloccare Più serve il premium È una storia Che abbiamo già visto Insomma Da un po' Ormai Da sempre Però si sta Accentuando Però Non vorrei svagare Troppo Nell'argomento Rimaniamo sul tema Fatemi sapere Cosa ne pensate Del trailer Ragazzi Il video è terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi come sempre Ci vediamo Ad un prossimo video Ad un prossimo gameplay Ciao Ciao